Sono le 7 e il 21 marzo, buongiorno a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione. Ieri, un'altra giornata drammatica, forse la più drammatica per quanto riguarda l'emergenza coronavirus, sono state 627 le vittime. Allora da oggi entrano in vigore le nuove norme più stringenti per cercare di interrompere proprio la trasmissione del contagio con le persone chiuse, i parchi e le aree all'aperto, limitate anche le cosiddette passeggiate e l'attività fisica. Intanto dall'Europa arriva un altro segnale importante, la Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha annunciato la sospensione del patto di stabilità. Una misura molto importante, questa che insieme all'altra misura che era stata annunciata da Christine Lagarde, la Presidente della BCE, la Banca Centrale Europea, cioè l'immissione di 750 miliardi, sembra dare nuove speranze all'economia e ai mercati che infatti, lo vedremo poi, hanno reagito tutto sommato abbastanza bene, chiudendo ieri in positivo. Allora andiamo a vedere subito le aperture dei giornali, cominciamo dal Corriere della Sera. Allora il titolo lo vediamo insieme, più morti, scontro sui divieti, il Governo chiude solo i parchi, regioni e sindaci all'attacco e poco agiamo noi. Il giorno con il maggior numero di vittime, 627, verso il sì all'ospedale della Fiera. L'esperto aumentare i tamponi e come ogni giorno vi ricordo, la sottoscrizione, lo vedete qui in alto, grazie alla Sette, al Corriere della Sera, la Gazzetta dello Sport, possiamo aiutare dando ognuno per quello che è possibile un contributo economico per aiutare la sanità. Dobbiamo farlo perché il momento è drammatico ma sicuramente ce la faremo. Allora, nella fotonotizia vedete questa emblematica perché siamo a Milano con questi due militari davanti al Duomo, pressoché una piazza pressoché deserta. E allora sotto invece, come vi annunciavo, l'andiamo a vedere poi tra qualche istante, l'intervista alla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, il patto di stabilità è sospeso, Italia esempio meraviglioso. Poi vedremo bene che cosa voglia dire questo, ma insomma è un importante passo per quanto riguarda l'economia. Vediamo la Repubblica, altro titolo, Italia spezzata, chiude a New York, bloccata tutta la Silicon Valley, l'Unione Europea sospende il patto di stabilità, record di morti, 627 in 24 ore e contagi, 4.670 nel nostro paese, però qui non è citato, ma c'è anche un numero importante di persone che sono guarite. Nel giorno più nero del coronavirus e poi ancora vediamo dal Veneto alla Sicilia, da Roma a Torino, regioni e comuni decidono in proprio di veti, misure e orari diversi. Il Governo prova a tamponare la confusione delle tante ordinanze locali. Il Ministro Boccia serve più coordinamento. Vediamo la stampa. Lombardia 1 su 3 muore in ospedale, allarme coronavirus. Nelle ultime 24 ore 627 morti, più di 47.000 positivi. Raggi, il Sindaco di Roma, Raggi, domani a Roma controlli su ogni auto che circola. Domani si intende oggi. Ci saranno dei controlli serrati, verranno fermati tutti i veicoli in circolazione. E poi sotto il Governo inasprisce le limitazioni, chiusi parchi, villa e giardini, ma le regioni chiedono di più. Cirio, Piemonte al limite, sospeso il patto di stabilità. L'Unione Europea apre sugli aerobond. Scuola verso una maturità leggera, solo con commissari interni. Così la stampa. Vediamo il messaggero. Virus, la mini stretta non basta. Stop ai weekend fuori porta e meno attività nei parchi. Governatori in ordine sparso. Gabrielli, pene più severo, il capo della polizia. Balso dei morti, 627, mai così tanti in un giorno. Borrelli, il capo della protezione civile. Picco lontano, ma calano i malati e gravi. E poi la notizia del patto di stabilità, lo vedete qui, sospeso. Stop ai vincoli di spesa. L'Unione Europea apre ai Covid Bond. E poi un'altra anticipazione, un'intervista al Ministro della Difesa, Guerini. Daremo più soldati senza militarizzare il Paese. Infatti in questi giorni ci si interroga proprio su questo, sull'opportunità di inserire i soldati, che peraltro sono già presenti nell'operazione Strade Sicure, inserirli ulteriormente per aiutare le forze dell'ordine nel controllo proprio degli spostamenti e dei trasporti. E poi accanto abbiamo un'intervista anche all'Aria Capua. La vita dice non sarà più lo stesso. E poi ancora a Roma controlli su tutte le auto, che non saranno appunto a campione, ma su tutti i veicoli circolanti. E poi il giornale. Conte, Tentenna aumentano morti e contagiati. Lombardia e Veneto chiedono il coprifuoco, ma il governo non decide. L'Europa congela il patto di stabilità. E in questa fotonotizia, si riferisce agli Stati Uniti, a New York, il coronavirus naturalmente coinvolge anche gli Stati Uniti. Il coronavirus spegne anche le luci di New York. Boris Schock chiusi i pub. Boris si riferisce a Boris Johnson, il premier britannico. Vediamo il sole 24 ore. Bruxelles allenta il patto di stabilità. Aiuti senza limiti. Ecco perché è importante. Poi crescono i contagi. Boccia il presidente della Confindustria, in questo caso non il ministro. Rilanciamo economia e lavoro. Ancora altri giornali. Il fatto quotidiano. I medici si proteggono con i sacchi dei rifiuti. In questo modo denuncia ancora una volta la mancanza di dispositivi sanitari necessari, soprattutto per chi come il personale sanitario opera in prima linea tutti i giorni. Lombardia, altro che sanità modello. Lo scandalo di un ospedale di Mantova, toccato. Intanto il nuovo record di morti in Italia, 627. E ci ricorda anche tra questi il numero delle vittime, che sono i medici, che è arrivati a 17. Così il fatto quotidiano. Vediamo libero. Coraggio arriverà il vaccino, mentre anche al sud imperversa il virus. Allora, sono le 7 e 6 minuti. Io mi fermo qui per il momento. Linea alla regia. Ci vediamo tra qualche istante. Continuiamo la lettura dei giornali. Vi aspettiamo. Sono le 7 e 11 minuti. Quasi manca una manciata di secondi. Eccoci di nuovo qui con la lettura dei giornali. Intanto ho preso il quotidiano Il Mattino. Quotidiano di Napoli. Campania quasi tutto chiuso. Nuova ordinanza di De Luca. Il Presidente della Regione. Si fermano comuni e cantieri. Siamo in guerra. Resta aperto solo chi serve. Parchi e sport. Conte vara un'altra amministretta. Gabrielli, pene più severe. E poi ci ricorda anche il mattino. Record di morti in un giorno, 627. Vediamo il manifesto. Addio piccolo. La tregua si allontana. In Italia oltre 600 vittime. Più di 6.000 contagi in 24 ore. Venerdì nero anche in Europa. Stretta su Parchi e Weekend. La fotonotizia ritrae la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, e ci dice, sotto al titolo, Giro di vita, l'Unione Europea sospende il patto di stabilità. Non era mai accaduto. I governi potranno spendere tutte le risorse necessarie per affrontare l'epidemia. Bruxelles e Francoforte aprono i cordoni della Borsa e non escludono i Corona Bond. Sul piatto i 500 miliardi del fondo salvastati da poter usare senza condizioni. Voglio restare sulla prima pagina del manifesto perché Alberto Negri ci segnala una situazione. Lo sapete che c'è un altro paese, oltre dopo la Cina, l'Italia, la Spagna e l'Europa, c'è un altro paese che sta avendo una situazione davvero drammatica ed è l'Iran. I morti sono oltre 1.200, ma si teme che possano essere molti di più. Alberto Negri ci ricorda che però questo paese è impossibilitato a far fronte all'emergenza perché è sottoposto ancora a sanzioni. Ci sono virus che resistono a ogni vaccino, le sanzioni e questo virus del regime change che non abbandona mai gli Stati Uniti. Anzi, in tempi di pandemia Washington coglie il momento per mettere ancora più con le spalle al muro l'Iran dove l'epidemia dilaga. Questo è importante ricordarlo. Forse ci permettiamo con la nostra umiltà di dire che si potrebbe temporaneamente sospendere le sanzioni per poi naturalmente riattivarle, ma consentire a un popolo come l'Iran di potersi difendere da un'epidemia così grave. Andiamo a vedere la verità. Altro che ridurre gli orari, supermercati aperti sempre, nuovo record di morti in un giorno, 627 balzo di contagi al sud. La verità ci ricorda anche però una situazione, ce ne siamo accorti tutti quanti, e cioè il petrolio è sceso, guardate, a 23 dollari, però la benzina non cale, il prezzo della benzina non cale. Poi viene spiegato nel dettaglio, nelle pagine interne che chi vuole appunto può andarsi a leggere. Andiamo a vedere ancora altre prime pagine. Resto del Carlino, sono i giorni più duri, obbediamo. Contagiati e morti continuano a crescere, restare in casa è l'unico modo per invertire al più presto la tendenza. Il ministro della Salute e Speranza copia il modello Emilia Romagna, chiusi i parchi, sport solo da soli e vicino alla propria abitazione. E poi questa fotonotizia fa parte ormai della nostra quotidianità. Un paese in fila, lo vedete, persone con i carrelli, probabilmente attendono di entrare in un supermercato. Caos supermercati, il governo non li chiude, regioni in ordine sparso, corsa a fare la spesa, aiuto ai pensionati, assegni in anticipo. Mette un po' insieme tutte le notizie. Vediamo avvenire da Francesco, indulgenza per i malati, rosario in tv, il record della speranza. E poi il titolo centrale, stretta sugli spostamenti e l'apertura dell'Europa. Ancora un altro giornale, il tempo, la rivolta dei medici di famiglia, nel Lazio al fronte a mani nude, costretti a visitare gli assistiti, privi di guanti e mascherine. Ora, se questo fosse vero, sarebbe ovviamente contraddittorio, perché è inutile cercare di limitare i contagi quando i medici per primi non possono avere i dispositivi sanitari necessari per ovviamente far fronte a un'emergenza del genere. Ora i soldi ci sono, comprate, bocciato dagli esperti cinesi, il Covid-5 previsto dall'Istman, debole l'impianto dell'ossigeno. Così il tempo. Allora, andiamo a vedere le pagine interne. Cominciamo dal Corriere della Sera, che ospita un'intervista alla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, da questa notizia che è importante, cioè quella della sospensione del patto di stabilità. Naturalmente non tutti noi sappiamo che cos'è, e allora lo andiamo a leggere sotto nel dettaglio, ci spiega che cos'è il patto di stabilità. Il patto di stabilità e crescita è un accordo stipulato nel 1997 dai Paesi membri dell'Unione Europea, relativamente al controllo delle politiche di bilancio pubbliche, prevede un deficit pubblico non superiore al 3% del PIL, cioè il prodotto interno lordo, e un debito pubblico inferiore al 60% del prodotto interno lordo, comunque tendente a convergere verso questo parametro. Quindi in sostanza abbiamo capito che questi parametri in questi casi, così in questo caso così eccezionale come il coronavirus, viene sospeso, ovvero potremo sforare quelli che sono i parametri che vengono imposti dall'Europa. E allora vediamo che cosa risponde la Fonterleyen. Quello che tutti abbiamo capito è che nessuno Stato membro può fronteggiare questa minaccia da solo, dobbiamo lavorare insieme e aiutarci reciprocamente. Il virus non ha confini, l'Unione Europea è più forte quando mostriamo piena solidarietà. Questo è quello che voglio trasmettere agli italiani, non solo a parole, lo dimostreremo anche con i fatti. E ancora andiamo a vedere, partiamo dai coronavirus bond. In questo tempo di crisi stiamo guardando a tutti gli strumenti a disposizione, possibili a sostegno dell'economia europea, ogni strumento utile sarà sul tavolo. Sì, stiamo valutando l'opzione dei coronavirus bond e altre. La Commissione, questo è importante per l'Italia, concederà la massima flessibilità sugli aiuti di Stato e sul patto di stabilità. Così il governo italiano potrà aiutare le imprese e il mercato del lavoro a investire nel settore della sanità. Le regole del patto di stabilità, solitamente rigide, sono state molto allentate. Per la prima volta nella storia ho attivato la clausola di sospensione del patto di stabilità. Significa che il governo italiano potrà mettere nell'economia tanto denaro quanto serve. Le normali regole di bilancio, quelle sul debito ad esempio, non saranno applicate in questa fase. Poi abbiamo un'iniziativa per gli investimenti, soldi che vengono dai fondi strutturali inutilizzati, che l'Italia non potrebbe più usare e che invece noi le lasciamo. I fondi potranno essere usati in tutti i settori considerati prioritari, sono 11 miliardi. L'Italia potrà investirli nelle piccole e medie imprese o per la disoccupazione a breve termine o altro. In più, attraverso la Banca Europea per gli investimenti forniremo 8 miliardi di garanzie a livello europeo per i prestiti che le piccole e medie imprese possono usare. La Commissione ha messo sul tavolo un pacchetto fortissimo che si completa con la nuova potenza di fuoco annunciata dalla BCE. Lo ricorderete, sono i 750 miliardi che la Banca Centrale Europea ha messo a disposizione per fronteggiare questa emergenza. Stiamo parlando di questioni economiche. Vediamo che cosa abbiamo. Questo è Zagrebelsky. Abbiamo anche altre interviste che vi voglio segnalare. Appena riesco a trovarle, probabilmente sono qui sulla stampa. L'ospita La Stampa, il quotidiano di Torino, diretto da Maurizio Molinari. A pagina 11 abbiamo il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia. Dice che per chiudere serve un piano contro la crisi. Perché naturalmente, al di là dei numeri, di quella che è la cronaca, dobbiamo anche vedere in prospettiva quando il Paese necessariamente dovrà ripartire con un'economia che è stata così falcidiata in queste settimane. Allora, che cosa dice il presidente di Confindustria? Dice che alcune banche d'affari sostengono che lo shock sarà fortissimo, ma nella seconda parte dell'anno le cose miglioreranno. E allora risponde così Boccia. Abbiamo capito che il picco potrebbe essere entro metà aprile, ma cambia poco. Per quanto rapida sarà la fine dell'emergenza, ci sono migliaia di imprese che avranno difficoltà ad andare avanti. Sarà un anno molto difficile. E allora dice qual è la sua proposta? Dice che occorre rifarsi alle risorse del Fondo Salva Stati senza alcuna condizionalità. L'emergenza va affrontata in chiave italiana ed europea con gli strumenti che abbiamo indicato nel documento. Questa crisi porterà a un livello prossimo a zero della domanda, salvo che per i beni essenziali. Il decreto del Governo va bene per gestire l'emergenza. Le aziende sono già di fronte ad una crisi di liquidità. Occorre una sospensione dei termini fiscali e contributivi. Evitare che debbano anticipare la cassa integrazione, intervenire immediatamente per superare la fase di transizione. Questo consentirà di evitare danni irreversibili. Accanto alle parole del Presidente Boccia, però, abbiamo anche un imprenditore importante come Benetton. Alessandro Benetton, un mese di stop alle contrattazioni in tutte le borse. Questo è quanto propone. Allora, vediamo che cosa dice. Le rispondiamo al virus come singoli stati. Ocogliamo l'occasione per un progetto globale. Introduciamo, per via di tecnologie sempre più invasive, un controllo permanente sull'individuo oggi, con il motivo, il pretesto del virus. Oppure consentiamo al singolo di sviluppare il suo spirito civile e la sua propensione solidaristica. Le fasi di emergenza vanno colte nelle loro implicazioni etiche e filosofiche, poiché le discontinuità che introducono possono essere di lungo periodo. Il virus ci interroga, ma dobbiamo arrestarne gli effetti più deleteri. Anche in borsa, tenerla aperta equivale a giocare al casino. Questo è il senso delle parole di un imprenditore importante come Alessandro Benetton. Torniamo però a vedere anche altre questioni, come quella naturalmente importante di quanto sta accadendo. Allora l'accelerazione di Bertolasio, in questo caso ho preso il Corriere della Sera, fu un focus su Milano, per l'ospedale Alex Fiera, 300 letti, tac e sala operatoria. Poi sotto un'intervista a uno dei medici cinesi arrivati da noi in delegazione, in campo anche i medici di Wuhan, la cura col plasma di chi è guarito. La delegazione cinese avvia la sperimentazione a San Matteo di Pavia. Purtroppo io mi fermo qui, il tempo a mia disposizione è scaduto, anzi ho preso anche qualche secondo a Paolo Sottocorona, me ne scuso, ma gli do subito la linea con il buongiorno. Sì, buongiorno. Queste sono le piogge previste per la prima parte della giornata di oggi. Molto poco, come vedete, per non dire nulla, proprio debolissime piogge in Sardegna, qualche nuvola in più. Quindi è una giornata che inizia in qualche modo, in maniera molto simile ai giorni scorsi. Seconda parte della giornata di oggi, c'è un cambiamento questa volta, perché su tutte le zone alpine e su gran parte delle zone di nord-est, anche per il Friuli e il Veneto, forse con l'esclusione proprio delle zone costiere, c'è una zona di precipitazioni, anche nevose sui rilievi, ma a quote ancora piuttosto alte. Qualche pioggia compare sull'Appennino centro-meridionale, localmente moderata e poi sulle isole maggiori invece piogge piuttosto deboli. Questo è l'inizio del cambiamento che sarà causato da un arrivo di aria più fredda da nord-est, dalle zone balcaniche. Infatti, se andiamo a vedere la giornata di domenica, abbiamo tutte le zone alpine e prealpine, in particolare la parte occidentale, perché quando i venti arrivano da est si incanalano, diciamo, nella pianura padana occidentale, che è un po' come se fosse chiusa, e quindi i fenomeni sono anche intensi. I fenomeni sul versante adriatico e anche su quello tirrenico, anche sulle isole, in particolare la Sicilia. Quindi il maltempo sicuramente c'è. Tenete conto che sul versante adriatico, specie a fine giornata, le temperature sono in decisa diminuzione, quindi sull'Appennino può navigare anche quote relativamente basse, diciamo collinari almeno, quindi per la stagione molto, molto basse. Vediamo anche la giornata di lunedì, scusate, in cui si attenua questo flusso, vedete anche le precipitazioni al nord diminuiscono, restano sul medio versante adriatico, Calabria, Sicilia, in parte la Sardegna, però tutto tende ad attenuarsi, però con un livello termico decisamente inferiore. Per quello che riguarda oggi, le minime sono ancora molto simili a quelle di ieri, ancora non abbiamo avuto variazioni, e lo stato dei mari comincia a farsi sentire sui canali fra le isole maggiori, specie lo stretto di Sicilia, che per venti ancora meridionali, sud-est, scirocco, potrebbe essere anche localmente agitato. Gli altri mari, specie quelle orientali, sono ancora assolutamente tranquilli. Se volete ci vediamo subito prima delle 7.55, adesso pubblicità, e poi la prima edizione del nostro telegiornale. da più tardi. Grazie. 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 Grazie.